Siamo insieme a Gaitano Mignano, campione del mondo di gelateria, membro dell'equipe eccellenze italiane di pasticceria, gelateria e cioccolateria. Gaitano, raccontaci un po' quella che è la tua opera, il cioccolato in questo caso. Sto realizzando una scultura in cioccolato un po' sull'astratto, stiamo utilizzando varie tecniche, abbiamo fatto un effetto legno sotto come base, un effetto marmo del cioccolato scolpito e poi siamo andati in altezza con dei tubi in cioccolato. Il cioccolato che utilizzi è un cioccolato a latte, cioccolato bianco e cioccolato fondente, quindi racchiudi tutte le tecniche? Comunque in ogni scultura, in ogni cosa cerchiamo di utilizzare sempre tutti e tre i tipi di cioccolati, si fa un po' un'armonia di colori, si fa un gioco di colori e poi si usano varie tecniche. Diciamo valorizzare il prodotto, la materia prima è fondamentale, insomma è alla base di tutti gli artisti, no? Sì, in questo caso abbiamo usato vari tipi di cioccolato, poi abbiamo oltre ai tipi di cioccolato ci sono varie categorie di cioccolato, categorie magari più ricche di burro di cacao per dare più solidità, cioccolato più morbido per scolpire, burro di cacao magari spruzzato per lucidare, sono varie tecniche, vari elementi che usiamo. Gaetano, cosa consigli a tutti gli amici che ci guardano e agli associati della federazione, a tutti coloro che vogliono intraprendere la strada della pasticceria, della gelateria, della cioccolateria per diventare un ottimo professionista? Sicuramente il mio consiglio è quello di affidarsi ad un team, ad un'istituzione come la FIP che è un team di professionisti, ci sono molti maestri, plurimedagliati, campioni mondiali e persone che comunque sono idonee a seguire un ragazzo, una persona che adesso sta iniziando nel mondo della pasticceria, della gelateria e cioccolateria. Grazie Gaetano Mignano, grazie a tutti. Allora siamo insieme a Roberto Lestani, presidente della federazione italiana di pasticceria, gelateria e cioccolateria. Roberto ci puoi spiegare la tua opera, come è stata realizzata, si chiama Profumi di Donna. Negli anni il pezzo artistico in cioccolato ha avuto un'evoluzione, fino a qualche anno fa si pensava a concepire il pezzo artistico in cioccolato come cromaticità nei colori del cioccolato, quindi bianco, latte e fondente. Chiaramente andando avanti si è inserito dei colori freddi e dei colori caldi. Oggi c'è un po' un ritorno a valorizzare proprio la materia prima cioccolato. Nell'opera Profumi di Donna vediamo le diverse tecniche utilizzate, la scultura, il colaggio e la lavorazione anche al tornio. La cosa essenziale è dare senso all'opera. Nel momento in cui vado a dare un titolo all'opera, questo deve subito identificare l'opera. Da dire anche un'altra cosa molto importante, la leggerezza dell'opera. Oggi si tende a fare dei lavori stilizzati e sono i più difficili da fare, perché se facciamo un piccolo esempio, dire violino tutti sappiamo come è fatto un violino, un violino classico, ma immaginare con delle forme. Creare un violino è molto più complesso, perché c'è una ricerca mentale di forme e di linee. Ecco che oggi c'è un ritorno proprio al classico, ma va anche al classico unito allo stilizzato, quindi c'è veramente sempre una difficoltà in aggiunta per andare a creare sempre nuove proposte. La Federazione Italiana di Pasticceria, Gelateria e Cioccolateria fa anche formazione, no? Qual è il consiglio che possiamo dare agli associati e a tutti coloro che vogliono avvicinarsi a questo settore e vogliono ovviamente iscriversi alla federazione? Ma coloro che vogliono fare dei corsi di formazione, noi abbiamo diverse partnership e facciamo formazione sotto tutti i punti di vista, 50 sedi in Italia, in ogni regione con ogni delegato si organizzano corsi di formazione. La formazione è una cosa molto importante che riguarda sia il giovane che vuole approcciarsi a questo mondo fantastico, ma anche per i pasticceri professionisti. Tutto questo si chiama Federazione Italiana Pasticceria, Gelateria e Cioccolateria. Ringraziamo il Presidente della Federazione Roberto Lestani e alla prossima.